Siamo qui alle Motodays di Roma per WebTV Studio, sono in compagnia di Roberto, il vocalist di Radio Globo. Ciao Roberto, benvenuto. Grazie, grazie a tutti. Hai detto bene, Roberto Marchetti di Radio Globo, soprattutto del morning show di Radio Globo. Radio Globo anche quest'anno è presente a Motodays per questa edizione 2016. Devo dire che il divertimento si sposa molto facilmente con Radio Globo, che è una radio che tende molto al divertimento. Devo dire che c'è un grande entusiasmo qua a Motodays, veramente una figata incredibile. Bene, quale sarà la novità adesso? La novità per quello che riguarda Motodays? Allora, in questo momento sul palco principale, quindi sul palco di Radio Globo, c'è un'esibizione, diciamo un'intervista al grande campione di Superbike Michel Fabrizio, detto The Wizard, che sta comunque cercando di portare avanti il mondo dei giovani legato alla moto. Poco fa ci ha dichiarato proprio in anteprima che vorrebbe trasformare i suoi giovani in nuovi Valentino Rossi. Quindi, insomma, diciamo che è un'occasione ottima anche per noi. Bene, grazie mille di tutte le informazioni, è stato un vero piacere. Grazie a voi e tanti auguri per la festa della donna, siamo vicini. Auguri donne, se volete venirci a trovare anche a Radio Globo, le donne sono sempre molto molto ben accette. Un saluto a Web Studio. Ciao Web Studio. Un bacione.